Primo turno della Coppa UEFA 79-80, sono le immagini di Stella Rossa, Galatasaray a Belgrado il 3 di ottobre del 1979, la gara di ritorno all'andata 0-0 a Istanbul e qui il primo gol in replay di Savic al 19esimo in vantaggio alla Stella Rossa in maglia rossa ovviamente, vantaggio che garantirebbe a questo punto la qualificazione. Il rigore di Savic al settantesimo 2-0, gol di Savic al settantesimo 2-0 per la Stella Rossa nel secondo tempo, accorcia Gungor al settantacinquesimo per il Galatasaray, ma poi è Milovanovic al settantaseiesimo a segnare il terzo gol, definitivo gol che rivediamo. Gol del 3-1 con cui Galatasaray viene eliminato dalla Stella Rossa in questo primo turno della Coppa UEFA 79-80, il gol di Milovanovic passa alla Stella Rossa.